buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola ragazzi v vera e professionale oggi parleremo dell'ultimo respiro perché un signore mi ha scritto dottore ma fino a quando continua a parlare di ipnosi bla 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 e io gli ho risposto fino all'ultimo respiro della mia vita su questa terra certo hanno scritto parecchie cose sul pensiero positivo sulla parola sull'ipnosi chi più ne ha più ne metta sulla new age eccetera eccetera però nessuno ha parlato ma di questo metodo che proviene direttamente da los angeles beverly hills ed il sottoscritto fino all'ultimo respiro ripeto ancora una volta l'obiettivo la mission la missione quella di sdoganare il metodo dicesse l'ipnosi dicesse vera e professionale con la v maiuscola ragazzi ok questa è la mia missione finché ho finché respiro per cui rispondendo a questo signore anche a chi magari anche nello stesso mondo dell'ipnosi pensi pensa che io possa fermarmi non ha capito nulla perché è vero che ci sono stati tantissimi metodi ci sono tantissimi metodi nel mondo eccetera eccetera però io avendo letto più di 2000 libri anche molto antichi eccetera eccetera non ho mai visto un qualcosa del genere l'ho scoperto nel 2008 ci ho messo dieci anni per mettermi davanti a questi schermi e filmarmi perché voglio trasmettere alla gente di buona volontà le mie esperienze le mie competenze ok per cui tu che pensi che io mi fermi non hai capito nulla va bene e aggiungo se tu anche se sei un esperto di ipnosi perché sento e leggo molti che mi scrivono io ho fatto questo corso con il guru x io ho fatto quest'altro corso corso a new york con il guru y io ho fatto quest'altro corso a parigi con il guru z a me va bene tutto nessuno vuole parlare male dei guru tutto fa brodo ragazzi perché poi alla fin fine se uno trova la soluzione va bene tutto disciplina tradizionale disciplina alternative non mi interessa io voglio soltanto farti capire che anche per i casi impossibili se le hai provate tutte con zero risultati o anche per tutti quei bambini adulti anziani che non vogliono non possono ricevere il tuo aiuto né online né dal vivo né offline bene il mio metodo di cese può fare al caso tuo del tuo caro come faccio a dirlo perché ho fatto personalmente aiutato centinaia e centinaia di a bambini adulti anziani in tutto il mondo online e ti posso garantire in qualsiasi parte del mondo funziona funziona e nel 2008 a causa di un ictus capitato a mio padre che lo stava per ammazzare io ho scoperto la dottoressa rina brunini di los angeles beverly hills il professor dottor michel angel garai mi sono innamorato ero già un ipnotista autodidatta e da lì è partita la mia avventura ho fatto da assistente per ben due anni su skype con la dottoressa brunini salvando mio padre da un ictus dove la medicina tradizionale non aveva nulla che che potesse fare e neanche chi gli esperti professionisti l'ipnosi anche medici perché se tu non lo sai anche i medici i psicoterapeuti i psicologi di tutto il mondo a parte i consular mental coach life coach utilizzano l'ipnosi non avevano mai affrontato casi di ictus con l'ipnosi vera e professionale perché esiste anche l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi conformista e commerciale che però ripeto che una volta io ho passato un po fatto tutto l'iter il metodo dcs già per il fatto stesso che tu puoi ipnotizzare anche da solo chi non vuole essere ipnotizzato fa una grande ed enorme differenza compreso gli auricolari dove con il metodo dcs tu non le fai usare non le usi fammi tutte le domande del caso io resterò qui fino all'ultimo respiro a trasmetterti ciò che so se ne vuoi sapere di più poi c'è il mio sito internet www.ipnologiassociati.com oppure mi puoi scrivere un'email ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni perché sono spessissimo all'estero e visita anche la mia fan page su facebook ipnosi audio ipnosi del dottor claudio saracino visita e iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può far cambiare la vita come è successo a me nel 2008 in tutti i sensi immaginabili e possibili e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor un bacio e un abbraccio ciao